musica 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 ah 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 ok vai va bene la voce ah 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 io non mi veniva a parlare niente ma però va bene no? ah 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 i lost ah 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 va bene va bene noi siamo in versione klotinski ah 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 e ci saremo ogni anno no la maglia alle balli Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.